Immagina di essere seduto, ad esempio a guardare un panorama, sei lì fermo, fisso e guardi sempre la stessa cosa. Lo psicologo che cosa fa? In un certo senso ti aiuta a renderti conto che puoi guardare anche a destra, che puoi guardare anche a sinistra e che non necessariamente devi essere fermo lì a fissare sempre e unicamente soltanto lo stesso punto.